Nuovo passaggio in aula ad Arezzo per il crack di Banca Etruria. Oggi è stato infatti il giorno delle ultime repliche degli avvocati difensori. Una ventina a quelli che hanno preso parola. Stavane mattina ci sono state le repliche dei difensori che non hanno chiesto l'abbreviato. Quindi difensori che difendono gli imputati nell'udienza preliminare e ordinaria. In tutto sono 27 gli imputati accusati a vario titolo di banca rotta semplice e banca rotta fraudolenta. All'interno di Banca Etruria rivestivano ruoli da ex consiglieri, ex dirigenti ed infine sindaci e revisori. Quattro di loro hanno chiesto il rito abbreviato all'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi, l'ex vicepresidente Alfredo Berni ed infine l'ex consigliere Rossano Soldini. Lunedì prossimo sarà il turno proprio dell'ex direttore generale chiamato in aula a deporre. Perché lui come già è successo in altre vicende giudiziarie che hanno riguardo il caso di Banca Etruria si è sempre messo a disposizione delle autorità giudiziarie per dare il suo contributo, per chiarire che le responsabilità per quello che è successo in Banca Etruria sono forse da ricercare in altri ambiti che non quelli gestionali. Il PM Andrea Claudiani nella sua requisitoria aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati e si era detto d'accordo per i riti abbreviati. Il giudice poi dovrà pronunciarsi contemporaneamente se sui riti abbreviati sia sugli eventuali rinvio a giudizio.